Si respira un clima di serenità dopo aver vissuto momenti drammatici ed aver temuto di finire nel baratro. Gli afghani che sono arrivati ad Avezzano si sentono al sicuro, nonostante i disagi, si percepisce che nei grandi c'è uno scarico di tensione, mentre i bimbi giocano tranquilli. E' il direttore dell'Agenzia regionale di protezione civile abruzzese Mauro Casinghini a fare il punto della situazione sul lab di prima accoglienza dei profughi afghani che è stato allestito all'interporto di Avezzano, da dove poi ci sarà lo smistamento nei luoghi di destinazione nelle varie regioni italiane. Nello spazio di proprietà della regione Abruzzo, gestito dalla Croce Rossa italiana in sinergia con la protezione civile, sono arrivate 850 persone. Nelle prossime ore ne sono attese altre 450. Oltre 100 i volontari che stanno affiancando la Croce Rossa. Al lab di prima accoglienza e smistamento dell'interporto di Avezzano, che ieri sera ha ospitato circa 1300 profughi afghani, nelle prossime ore comincerà anche il trasferimento nelle regioni italiane, come riferisce il direttore dell'Agenzia regionale di protezione civile Casinghini, che sta coordinando insieme alla Croce Rossa italiana le operazioni. A lasciare per primi il campo base saranno una settantina di persone che verranno sistemate negli alberghi della provincia dell'Aquila a partire dalla Marsica. In Abruzzo, secondo quanto sia preso, dovrebbero rimanere circa 170 persone. Casinghini dice che stiamo reparendo gli alberghi che stiamo trovando più nell'Abruzzo interno, visto che sulla costa sono ancora molto frequentati per una stagione estiva ancora in svolgimento. Non ci sono positivi al Covid tra gli 850 profughi afghani arrivati nel lab di prima accoglienza all'istito all'interporto di Avezzano e non ce ne sono tra i 450 annunciati.